Sono in sciopero in questi giorni gli avvocati dei quattro tribunali abruzzesi cosiddetti minori, due in provincia dell'Aquila, Avezzano e Sulmona, in provincia di Chieti altri due, Vasto e Lanciano e siamo proprio a Lanciano con la presidente Silvana Vassali, la presidente degli avvocati di questo tribunale che porterà la voce di tutti gli avvocati abruzzesi sabato all'Aquila in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Sì, è stato concesso dall'Unione dei Consigli Forensi di dare la possibilità a un rappresentante dei tribunali non provinciali di questo saluto. La nostra è un'astensione dalle udienze, secondo la legge vigente, contro il mancato inserimento nel decreto 1000 proroga della nostra proroga. Una richiesta di proroga che è stata avanzata già da diverso tempo, ancora di più giustificata non solo per le ragioni che ormai anche la stampa conosce a memoria, ma anche e soprattutto perché il 2022 sarà l'anno delle grandi riforme nel processo civile e accavallare le grandi riforme nel processo civile e penale con la chiusura di quattro importanti tribunali che sono nel sud dell'Abruzzo, sicuramente creerà degli disagi non a noi avvocati, questo lo ribadiamo di continuo, ma creerà grossi disagi a chi aspetta risposte alle loro domande di giustizia. Quando è prevista la chiusura? La chiusura è prevista per il 14 settembre e entro il mese di febbraio dovrebbe esserci la conversione in legge del decreto 1000 proroga. Sono stati presentati gli emendamenti per inserire anche la nostra proroga e qualora non ci dovesse essere, alla fine di febbraio ci saranno altre astensioni e altre iniziative di protesta. Tanta la solidarietà, ma anche i politici e i parlamentari si sono mossi in difesa dei quattro tribunali. I politici e i parlamentari abruzzesi tutti hanno fatto la loro parte per presentare emendamenti o altro. E' chiaro che è soprattutto anche la Regione, perché non va dimenticato che qualora restassero in vita i nostri tribunali la Regione Abruzzo si è accollata le spese di mantenimento ordinario. Quindi non ci sarebbe neanche un danno economico allo Stato, anzi.